Grazie a tutti. La giornata di confronto e progettazione, la diretta dell'iniziativa su TSD. Amministrative, Ghinelli lancia a migliorarearezzo.it, un portale in cui amministrazione e cittadini collaborano per la città. La manutenzione al centro del piano delle opere pubbliche, nel 2015, 13 milioni e mezzo di investimenti. Genitori si diventa, le associazioni aretine del coordinamento a FIDAR lanciano un percorso in aiuto delle famiglie. Lo sport come strumento di integrazione, nessuno escluso alla scoperta del progetto CADA, il karate per persone con disabilità. Buonasera a tutti voi, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione su TSD. In apertura alla cronaca, due interventi degli agenti della Polizia di Stato, delle forze del reparto Prevenzione Crimine di Firenze e della squadra volante della Questura, nel pomeriggio e nella tarda serata di ieri, hanno portato all'arresto di un giovane polacco per detenzione di sostanza stupefacente e di un cittadino italiano per tentata rapina commessa nei confronti di una signora aretina. Il primo intervento è avvenuto in zona Giotto, ad Arezzo, dove un ventenne polacco è stato trovato in possesso di marijuana. Dopo il fermo, la perquisizione della sua abitazione ha accertato il possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, predisponendo l'arresto del giovane. Il secondo episodio ha invece avuto luogo in via Masaccio, due coniugi sulla Sessantina, le vittime di una coppia di malviventi che dopo il tentato scippo sono stati fermati dalla volante della Questura. Uno dei due ha affermato di aver compiuto il tentativo di furto a causa dell'eccessiva assunzione di cocaina. E voltiamo pagina, parliamo di diritto al cibo. La Caritas Toscana promuove una giornata di confronto e progettazione che sarà seguita in diretta da TSD. Vediamo i dettagli nel servizio. La crisi internazionale che ormai da anni ha colpito il pianeta ha profondamente ridisegnato i confini della povertà e della vulnerabilità con i segni della deprivazione e della sofferenza sempre più evidenti, insieme ai paradossali sintomi dello spreco e della dissipazione. Il tema del diritto al cibo è l'elemento centrale da cui è necessario ripartire, accogliendo anche l'appello lanciato da Papa Francesco per rimuovere lo scandalo della fame che ancora affligge un'ampia porzione della popolazione mondiale. Su questa tematica Caritas Toscana organizza una giornata di studio, confronto e progettazione per il diritto al cibo a livello regionale. L'incontro in programma venerdì 13 marzo sarà ospitato nei locali del Seminario Maggiore di Firenze e tra i relatori saranno presenti personalità del mondo ecclesiale, della finanza etica e della ricerca, tra le quali anche l'arcivescovo Riccardo Fontana in qualità di delegato della Conferenza Episcopale Toscana per la Carità. A partire dalle 10 e 15 sarà possibile seguire la tavola rotonda in diretta su TSD e grazie alla diffusione del segnale della nostra emittente l'iniziativa sarà visibile in tutto il territorio a Retino ma anche a Firenze, Prato e Pistoia. Oltre che sul canale 85 il convegno sarà visibile anche in streaming sul sito della nostra emittente all'indirizzo www.tsdtv.it slash live Cercando di dare ai partecipanti un programma ricco di proposte, esperienze e punti di vista per sviluppi futuri l'obiettivo è quello di creare un'alleanza regionale con azioni condivise. In occasione dell'evento promosso sulla scia della campagna Cibo per tutti e compito nostro di Caritas Internationalis, anche in previsione di Expo 2015 si terrà un momento d'approfondimento sugli strumenti di sostegno ed aiuto operati nelle situazioni di disagio ed emergenza all'interno delle singole comunità. Ci occupiamo adesso di sanità. Ieri l'ufficialità dell'entrata in vigore dal 1 luglio prossimo della riforma del sistema sanitario regionale con la riduzione delle ASL toscane da 12 a 3. Sulla questione è intervenuto Alessandro Ghinelli, candidato a sindaco per Arezzo che ha dichiarato, ritengo, che la previsione del presidente Rossi non sia praticabile in termini concreti. Anzi, si legge nella nota stampa di Ghinelli, la riorganizzazione delinea sempre più un sistema in cui la gestione della sanità viene conferita nelle mani solo di alcune persone. Si profila quindi un percorso che porterà sempre più alla privatizzazione del servizio. Sulla vicenda è arrivato anche il commento di Insieme Possiamo. Questa riforma, spiega Paolo Pezzati, è fatta soltanto di tagli, esuberi, chiusura dei piccoli ospedali e penalizzazione delle professionalità esistenti, professionalità che hanno fatto del modello toscano un'eccellenza italiana. E nonostante questo la riforma non è ancora completamente coperta finanziariamente. Insieme Possiamo, si legge nella nota stampa, si oppone fermamente a questa riforma e si batterà con tutte le forze per costruire una proposta alternativa salvaguardia del servizio sanitario pubblico. Infine, il commento di Maria Cristina Nardone, candidato a sindaco con la lista dalle soluzioni alle chiacchiere. Per Arezzo la strada è tutta in salita, spiega la Nardone, visto che molto probabilmente le ASL rimarranno nelle città che possono contare sulle università legate a medicina. La città più renziana, si legge nella nota stampa, si vede defraudata di tutto. Arezzo necessita di un polo sanitario con il privato convenzionato polo che dovrebbe sorgere all'area ex lebole. La sottoscritta, conclude la Nardone, ha anche un altro obiettivo, attivare ad Arezzo un'università legata a medicina, con l'attivazione del corso di laurea in robotica. Amministrative, Ghinelli lancia migliorarearezzo.it, un portale in cui amministrazione e cittadini collaborano per la città. Vediamo. Innovazione tecnica non solo nell'economia e nel lavoro, ma anche nella pubblica amministrazione. Un progetto per essere più vicini ai cittadini di Arezzo. Assolutamente sì, è uno dei punti fondanti del nostro programma elettorale, quello di applicare anche ad Arezzo l'e-government, che è una tecnica di avvicinamento dei cittadini all'amministrazione e viceversa, che per ora non è mai stato applicato, perlomeno in Italia. Di che si tratta? Si tratta di un portale attraverso il quale il cittadino è in contatto con l'amministrazione e può segnalare non soltanto disservizi, in quanto questo già avviene con gli ordinari sistemi di social network, ma anche e soprattutto proporre idee. La novità è che l'idea o il disservizio, l'osservazione che il cittadino vuole segnalare è georeferenziata, quindi il cittadino può entrare in un portale, ovviamente declinando le proprie generalità, per cui sono esclusi gli abusi. E dopodiché può segnalare idee, mettere contributi personali, importare disegni, fare fotografie e li indica nella posizione in cui si trovano nella città e quindi dà all'amministrazione il segno, prima di tutto di essere presente e soprattutto quello di dare idee e contributi anche per la formazione di quelli che sono i programmi di un'amministrazione. Quindi c'è uno scambio in questo senso tra il cittadino e l'amministrazione. Viceversa l'amministrazione come contribuisce attraverso la nuova tecnologia? Attraverso la istituzione, quello che vogliamo fare, di una Wi-Fi free nel centro cittadino. Wi-Fi che si autosostiene e ha basso impatto ambientale e nella quale il cittadino si linka direttamente con il telefonino. Vedrà arrivare all'inizio delle pubblicità, degli esercizi commerciali, l'indicazione di strutture di tipo turistico e le potrà naturalmente bypassare ed entrare in quella che è la parte che gli interessa per comunicare con l'amministrazione o per comunicare con altri utenti. Ma la cosa interessante è che il turista invece da queste informazioni ha un'indicazione di dove recarsi e che servizi può ottenere in quella zona di città. Un utile netto di 1.016.000 euro che sottolinea un significativo progresso rispetto a 601.000 euro dello scorso esercizio. È stato approvato dal Consiglio di amministrazione il bilancio 2014 di Banca Popolare di Cortona. Un risultato che permette di proporre all'Assemblea dei soci un dividendo di 0,40 euro per azione ed un incremento del prezzo dell'azione di euro 0,50. In un anno ancora difficile per l'economia e per l'industria bancaria, riferisce il presidente Burbi, la banca ha evidenziato ottimi progressi in tutti i principali indicatori, compreso il numero dei soci che con un incremento di 136 unità ha superato quota 2.700. Nella stessa occasione è ufficialmente entrata a far parte del CDA il notaio Elena Bucciarelli-Ducci, positivo anche il dato relativo agli impieghi che crescono del 6,96%. La manutenzione al centro del piano delle opere pubbliche nel 2015, 13 milioni e mezzo di investimenti. Il servizio. Minimo comune denominatore dell'ultimo piano delle opere pubbliche per l'amministrazione comunale uscente è la manutenzione. La programmazione 2015 che andrà all'esame della prossima seduta del Consiglio Comunale si concentra prevalentemente su scuole e aree verdi, dopo che sono stati messi a bilancio 1.050.000 euro per 14 cantieri su strade e marciapiedi. Interventi nelle scuole per infissi, coperture, indagini di carattere sismico e anche per quello che riguarda le aree verdi che sono San Lorentino e Pergentino, il Pionta. Sono interventi completamente finanziati, quindi sono circa 16 cantieri che, al di là che l'amministrazione ci sia un passaggio amministrativo, comunque sono in procedura, sono pronti a partire da qui a fine anno, essendo totalmente finanziati e essendo, diciamo, di fatto espletate quasi tutte le procedure. Dalla manutenzione al restauro, comporta Trento e Trieste con un fondo di 300.000 euro e l'acquedotto vasariano, per cui sono stati messi a disposizione dalla Fraternità dei Laici 350.000 euro. Per quanto riguarda gli investimenti finanziariamente più consistenti, continuano i lavori in fortezza. Il prossimo passo è il Bastione Belvedere con 650.000 euro. Nuove strutture per la mobilità con un milione e mezzo di euro destinato alla realizzazione della rotatoria di Ponte a Chiami. Infine, l'investimento di maggior rilievo, 3.450.000 euro, dei quali 1.950.000 di fonte regionale per il polo digitale che verrà costruito a Pescaiola nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo. Tra le opere prossime alla realizzazione ci sono anche quelle parzialmente finanziate, come ad esempio la riqualificazione di Via Petrarca e i marciapiedi della strada regionale 71 in Valdichiana. Tra opere interamente e parzialmente finanziate, per il 2015 il totale è di circa 13 milioni di euro. C'è tempo fino al 31 marzo per presentare le schede che la Regione Toscana ha messo a disposizione per la segnalazione dei danni subiti da privati e imprese per la tempesta di vento del 5 marzo scorso a Sansepolcro. È possibile scaricare la modulistica e le istruzioni per la compilazione delle schede dal sito internet del Comune di Sansepolcro all'indirizzo www.comune.sansepolcro.ar.it o ritirarla presso l'URP di Piazza Garibaldi o presso l'Ufficio Urbanistica Comunale di Palazzo Aggiunti in Via Matteotti. Le schede compilate dovranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune, ricordando che la redazione del modulo non dà automaticamente diritto al risarcimento, ma dovrà essere prima effettuata una ricognizione sommaria dei danni. Farsi capire e aiutarci a capire è un aspetto che diventa fondamentale soprattutto in alcuni ambiti con cui il volontario e non solo viene a contatto. È questo l'obiettivo di Dimmi come Parli, il seminario organizzato da Avad, Associazione Volontari e Assistenza Domiciliare in collaborazione con il CESVOT in programma sabato 21 marzo dalle 9.30 alle 13 all'interno della biblioteca dell'ospedale San Donato di Arezzo. Tutti possono comunicare ma non tutti sanno farsi capire, in particolar modo quando il lavoro porta ad utilizzare un linguaggio specialistico e settoriale. Prima regola di un buon comunicatore è conoscere il pubblico al quale dovrà parlare. Per questo il corso ha chiesto a medici, giornalisti, politici, avvocati e psicologi di confrontarsi con il mondo del volontariato al fine di creare una cooperazione per lavorare meglio insieme. Genitori si diventa, le associazioni aretine del coordinamento a FIDAR lanciano un percorso in aiuto alle famiglie. Andiamo a scoprire il programma e i contenuti di questo percorso. Genitori si diventa, è questo il titolo di un'iniziativa che ha preso il via in questi giorni ad Arezzo. Innanzitutto partiamo dal titolo di questa iniziativa Genitori si diventa. I nostri nonni avrebbero detto che fare il genitore si impara facendolo. Oggi occorre molto più sostegno ai genitori perché la nostra società è molto più complessa e quindi è bene anche sostenerli per un accompagnamento per essere genitori migliori. Noi in realtà siamo dei facilitatori rispetto nei nostri incontri. Noi vogliamo attivare e confrontarci, perché poi dopo i genitori sono i migliori maestri, vogliamo attivare e confrontarci nella consapevolezza di che è essere genitore. Sono tanti i temi che anche i nostri telespettatori spesso ci pongono, ci chiedono di approfondire legati alla genitorialità, legati al rapporto con i figli. Uno su tutti, l'utilizzo diffuso della tecnologia tra i figli, l'accesso al computer, a internet. In generale la modalità migliore è quella di pattuire con i ragazzi, nel senso che con una presenza di significato accanto ai figli, che significa attenzione alla loro vita, è possibile poi stabilire delle regole, delle norme di comportamento concordate, soprattutto concordate. Certamente non ha una ricaduta educativa in divieto, ma la modalità di comunicazione educativa è proprio quella che vede la compartecipazione ad un comportamento condiviso da parte dei ragazzi. Tornano le 24 ore per il Signore in programma venerdì 13, sabato 14 marzo. Anche la diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, aderisce all'iniziativa lanciata nel 2014 dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione e al centro dell'appuntamento di quest'anno ci saranno il sacramento della riconciliazione e il tema Dio ricco di misericordia. Anche la chiesa retina cortonese Biturgenze, come indicato dal Civescovo Riccardo Fontana nella lettera per la Quaresima, propone questo cammino per dare espressione alla necessità della preghiera e della carità. A livello parlocchiale, vicariale o zonale è prevista un'apertura straordinaria delle chiese secondo le possibilità e le necessità singole, offrendo la possibilità di momenti di adorazione eucaristica, veie di preghiera e confessione. Inoltre le offerte raccolte domenica 15 marzo tramite le sante messe e le offerte libere saranno destinate al fondo di solidarietà gestito dalla Caritas Diocesana. Ed ora come ogni giovedì torna l'appuntamento con Nessun Escluso, lo spazio del Terzo Settore, la rubrica di TSD dedicata al mondo del volontariato. Quest'oggi a Nessun Escluso ci occupiamo del progetto CADA per l'insegnamento del karate alle persone con disabilità. Lo spazio di informazione sociale di TSD è inserito all'interno del progetto Le abilità diverse della disabilità promosso dalla Caritas Diocesana e finanziato dal bando CEI 8x1000. La rubrica è poi realizzata grazie al prezioso contributo di Gianmarco e Paolo. La pratica di una disciplina sportiva può migliorare le funzionalità di una persona con disabilità, favorende o non ha maggiore autonomia. Questa settimana Nessun Escluso vi porta alla scoperta del progetto CADA, il karate adattato ai diversamente abili, promosso dall'Associazione Sportiva Ombudojo di Arezzo. La pratica è dunque il fare come metodo vero e proprio per l'apprendimento. E' questo il principio di base del progetto CADA. Come si struttura il percorso? Se è pur vero che è necessario pensare e organizzarsi strategicamente prima di muoversi, è anche vero che il movimento è alla base di quello che facciamo, in quanto ci consente di avere da subito un feedback e quindi sviluppare un'autocritica nei confronti di se stessi. Questo è il principio dell'arte marziale, come si suol dire la mente mente e quindi se non facciamo corriamo il rischio di essere tratti in inganno da noi stessi. Il percorso nell'ambito del CADA è comunque legato a un'assoluta gradualità e soprattutto a un adattamento, quindi c'è un grandissimo rispetto e attenzione per la persona in maniera tale che l'esercizio sia commisurato alle capacità tecniche del momento. Cosa significa essere operatore CADA e come lo si diventa? La nostra associazione ha pensato di strutturare dei corsi per poter diventare operatore CADA. Per poter insegnare karate e poterlo adattare alle persone che abbiamo di fronte è necessario impegnarsi ad aumentare le proprie capacità tecniche e le proprie competenze. Io stesso, che sono un praticante di karate da quasi 38 anni ormai, ho sentito la necessità di ampliare il mio bagaglio tecnico per poter approcciare un argomento così e lontano da quello che era il mio modo di intendere il karate. La didattica abbiamo sviluppato che si rifà comunque al karate tradizionale, che già di per sé offre una didattica ben strutturata da ormai qualche centinaio di anni. Quindi non è un contesto di tipo sportivo, ma è un qualche cosa che si rifà alle radici del karate e comunque di tutte le arti marziali in genere, che sono nate essenzialmente per il miglioramento dell'individuo e non per le competizioni. Quali i risultati ottenuti dai CADA Boys? I risultati ottenuti dal nostro gruppo sono senz'altro confortanti e ci hanno ripagato molto. Siamo riusciti a partecipare con un gruppo ben nutrito, ben a due campionati internazionali dedicati a disabili organizzati dall'Oxen. L'altro grande obiettivo è stato quello di far sì che il gruppo dei CADA Boys partecipasse in maniera attiva e costante a tutte le iniziative della nostra associazione. A causa del forte evento degli ultimi giorni che si è abbattuto su Arezzo e provincia, si sono incrementati i dati relativi agli infortuni di cittadini che hanno preferito operare le dovute riparazioni su edifici o oggetti danneggiati attraverso una manutenzione fai-da-te con propri mezzi di fortuna, piuttosto che con le necessarie misure di sicurezza. Tra gli incidenti causati dalle cadute dall'alto, due piuttosto gravi si sono registrati a Cortona e a Sansepolcro, altri analoghi ma con minori conseguenze. A questo proposito è stato lanciato un appello da Domenico Sallese, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 8. Invito i cittadini e le imprese, in particolare quelle addette al settore edile e impiantistico, ad adottare le necessarie misure di sicurezza contro i rischi di caduta, quali ponteggi e cinture di sicurezza. La rapidità dei tempi di intervento che spesso caratterizza questi lavori non deve indurre a trascurare le misure di prevenzione. Parliamo adesso di Giostra del Saracino. L'ipotesi circolava ormai da giorni, la conferma non si è fatta attendere oltre ed è arrivata alla magistratura della Giostra. Prosegue la bufera su Palazzo Alberti con le ultime elezioni ancora al centro delle polemiche e finite all'attenzione di un socio rosso-verde che ha presentato il ricorso all'organo giostresco. Le ultime votazioni avevano sancito il successo della lista giovani, capitanata da Alessandro Pommella. Alcuni elettori, a secondo quanto sostenuto nel ricorso, non sarebbero stati in regola con il pagamento della quota sociale annua al momento del voto. Lo statuto prevede che ogni socio per non vedere decaduto il proprio diritto di voto deve pagare la quota entro il 31 dicembre. Quali dunque gli scenari che si prospettano? Se la magistratura dovesse accertare le irregolarità, l'esito della votazione potrebbe essere messo in discussione. Intanto lunedì 16 marzo il Consiglio si riunirà per l'assegnazione delle cariche. E con questo è tutto per questa edizione. Vi ringrazio per averci scelto, per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata su TSD.